Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ok, ok. Chi put is a batut? Per essere competitivi in questo mondo bisogna essere dei programmatori, bisogna conoscere il codice. Invece più andiamo avanti, più la cosa più sensata è conoscere bene l'italiano. Cioè, probabilmente, tra cinque anni saranno più le iscrizioni al classico che non allo scientifico perché se sai parlare bene, meglio degli altri, l'italiano, se la grammatica sai argomentare una frase e un'idea sarai in grado di interagire meglio con l'intelligenza artificiale. La roba che mi spaventa è dire, in questo momento in Italia... Transition molto molto bello. Lì per lì... Te la ricordi bene tu? Io lì per lì... Oh, buonasera! Ciao Yama! Ciao Yama! Oh, ve lo giuro, mi vergogna da fare schifo. Bella a tutti! Matteo Saba quando sei chiamato? Ok, ciao! Intendi quando? Quanto? 13.000 euro. Hai mai fatto uso di droga? Quel pezzo di merda, sei un truffatore del cazzo ridami i soldi. Sei un povero schifoso del cazzo, un poverino che ruba i soldi alla gente, pensa a campare con i soldi degli altri. Schifoso, lurido, pelato. Ci vediamo di nuovo qua. Ma porca troia! Ma è passibile di almeno fare una denuncia! Mori male! Ma no! Ma... Porca vacca! Aspetta... Ok. Appena ti becco ti meno. Ma perché? Eh vabbè... Lasciami sfogare, scusami! È un gioco? Oh sì! Un gioco, ok. Allora continuate le domande, togliete le risate... Un po' degli altri. Io voglio prendere la mia responsabilità e dire che ho fatto una cazzata. Ho fatto oggettivamente una cazzata e me ne prendo le colpe. Più che altro io stavo entrando in una rotonda ed era una rotonda di quelle con il passaggio del tram in mezzo. Oh... Non ho guardato. Mi prendo la responsabilità. Non mi aspettavo mai che ci fossero dei tram attivi alle 5 del mattino. Quando uno guida, di base è abituato a guardare dove sa che possono arrivare delle macchine, no? O mischiate le robe... Raga, non ho visto il tram. Non ho completamente visto il tram e mi ha preso in pieno il tram. Completamente. E mi vengono poi i brividi a raccontarlo perché è stato veramente uno spavento. Ed è colpa mia. Ne prendo le responsabilità. I semafori erano spenti. Quindi... Non l'ho proprio visto. Non ho visto che trasferirsi. Grazie L di Oladro. Grazie per i due mesi. Grazie Lietta Giù. Grazie Lietta Giù. Mi ha dato una miscita che mi viene a fare cosi come... No 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 no! No, no, no no no! No no no! Nooo, pezzo del merda! Oh pezzo del merda! Noh! Oh pezzo del merda. Cazzo! Gio, dove stai? Tu cazzo stai che non mi hai da più la chiamata! Tu cazzo stai! Gio! Gio, n te! Gio, n te! Gio le Mandragone attacche dal cazzo! mi sa che è stata la fila in cui grazie tu ridi niente grazie stavo parlando vabbè che sto dicendo proprio guadagnare guadagnare perché devi dire ok questo è il mio lavoro quando ti sei reso conto che poteva essere tra la terza superiore e la quinta tu lo facevi già continuate basta parlare un ripresino cos'è un ripresino una striscia di bambocca bisogno di una carta di credito si parla di soldi terzo oddio progetto happiness progetto happiness no fortissimo però non so se lo metterei ma non è costante no per me la costanza è importantissima quando fa youtube io vorrei mettere tudor in questo top 3 però non è costante però quando esce fai i video della madonna io lo dico sempre fai i video la tua appena ha una qualità assurda potrebbe andare su netflix poi ho iniziato anche a doppiare le robe ah si mi ricorda tante cose ok qual è stato il vero problema del lobby secondo te problemi di routing di internet di dns sbagliati problemi di connessione velocità di download troppo bassa di upload porco dio 4 vats appena nata si sente sola birillo ricona si è fatta manux mvp cox è stata la stiamo sentendo quindi maggio di no eeeh lusconale anche perchè guarda sta sedia non so se vi è capitato mai questa è tragica allora brisida te non te ne devi preoccupare cioè non è successo niente il problema di sta sedia è che sta sedia metti caso più la volessi vende cioè ti dici no e ti dici io voglio vendere la sedia se non la potresti mai vende sta sedia perchè guarda che c'ha si vede? non dirmi che sperma si è proprio quello ah ok è un casino scusami chiedo veramente scusa non pensavo la stessa gravastica scusami brisida purtroppo certe cose freno è molto complicato da gestire è un personaggio no scusa no aspetta no ma se dici poggi il culo ma come c'è finita? eh volete c'è la così piccola che gocciola è una pianta e quindi ho iniziato un po' a calzeggiare devi far serata serata no perché bottiglie tu non sei uno che va in discoteca? no però ci sei andato in passato sì quando ero più piccolino quando avevo 19 anni commentiamo ma magari in privato non lo so scopiamo 11 street ciao amici I'm joking ma porco di me mica ma questo milionario è frizzante ma perché lei ha il timer come la sveglia però lo puoi dire in tre volte in tre nomi diversi assurdo e tu come ti chiami invece? Christine Christine che è proprio un nome russo di cognome finisci con Nova un problema che per passaporto è Cristina ma scusami penso che tutta Cristina è puttana no no ci dobbiamo non lo so in maratona allora innanzitutto partiamo dal presupposto che ciao Surry vieni qua abbracciami Surry se vuoi salutare il live che ti sentono finalmente con un buon microfono ciao ragazzi buonanotte a posto ciao Surry oh grazie ci vediamo la parola grazie per essere venuti ciao bella la mia fottuta condanna è deciso te è deciso te che è all'epoca che prossimo è incredibile all'estoranza con la Tesla viola bellissimo questo era molto il rape quindi un po' così ha fatto comunque per ridere di Marchigno mi faceva molto ridere il fatto che non faceva minimamente ridere ma in realtà in realtà non credo che Marchigno sia entrato per farci ridere ma voleva solo mitigare questo esatto credo che Marchigno volesse aizzare un pochino e vabbè allora sapete perché i fenicotteri ciao